Avevano importato nell'Aretino oltre 450 kg di tabacchi di contrabbando scegliendo come base operativa il Valdarno, un vero e proprio mercato nero di Cipuait, ossia le sigarette prodotte legalmente nei paesi dell'Est ma non conformi agli standard dell'Unione Europea perché considerate pericolose per la salute, visti gli elevati livelli di catrame, nicotina ed altri elementi. A sgominare la banda adesso la compagnia della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno, coordinata dalla Procura di Arezzo al termine dell'indagine Fiore di Mezzo. I finanzieri hanno così scoperto che a capo dell'organizzazione c'erano due imprenditori cinesi che si avvalevano di una società del settore della lavorazione del pellame che operava fittiziamente nel comune di Castelfranco-Piandisco per portare in Italia tabacchi prodotti nei paesi dell'Est. Dopo aver identificato i due imprenditori incrociando le risultanze del controllo economico del territorio con le banche a disposizione, le fiamme gialle hanno iniziato a controllare anche i loro spostamenti. Così, grazie alle forze dell'ordine degli aeroporti di Firenze, Bologna e Roma, i due soggetti sono stati controllati a rientro da un viaggio in Cina. Nel loro bagagli sono state trovate e sequestrate le sigarette illegali. Oltre alle irregolarità fiscali rilevate nei confronti dell'azienda, sono state inoltrate alcune segnalazioni alle questure competenti in relazione alla disciplina in materia di immigrazione.